Prevenzione contro i terremoti. Il comune di Cosenza si muove in questo senso, realizzando un opuscolo che sottolinea i rischi correlati agli eventi sismici e indica le procedure da utilizzare in caso di eventi catastrofici, individuando e suggerendo ai cittadini cosa fare e dover recarsi per porsi in sicurezza. L'opuscolo informativo sarà distribuito a tutte le famiglie cosentine. Bisogna essere bene informati, conoscendo preventivamente quello che si deve fare, si possono evitare situazioni di panico che poi possono creare incidenti. Questa grida verrà distribuita a tutti i cittadini di Cosenza, a tutte le famiglie, verrà diversificata anche, ci sono delle cartine che indicano quali sono le aree di attesa in funzione delle diverse zone della città di Cosenza che sono state suddivise, in modo tale che tutti possano avere consapevolezza non solo di quello che devono fare in caso di evento sismico, ma anche dove si devono recare. La prevenzione in caso di terremoti è fondamentale per la Calabria e soprattutto per l'area di Cosenza che è a forte rischio sismico. Cosenza in particolare rientra nella categoria uno dei comuni al più alto rischio sismico, quello che significa un terremoto di alta intensità come quello che c'è stato in Giappone. Tutti i comuni sono al rischio sismico di primo grado e di secondo grado. Noi stamattina presentiamo questo puscoletto insieme al sindaco Chiuto proprio per sensibilizzare la popolazione sui comportamenti da adottare in caso di terremoto. La sensibilizzazione e l'informazione è la cosa più essenziale e più importante per dare risposte alle popolazioni. La protezione civile regionale ha anche fatto dono al comune di Cosenza di un strada che sarà utilizzato dalle strutture comunali preposte alla sicurezza in caso di calamità naturali.